ciao benvenuti a cazzeggio catapiotrico ciao in questa puntata di cazzeggio catapiotrico avremo un altro collegamento diretto con la colonia aliena di gonor presso il pianeta gonor alias marte e parleremo con il nostro amico alieno che ci parlerà di si parleremo anche di sopra e soprattutto di stazioni spaziali in orbita lunare e basi lunari sulla luna ok non perdiamo tempo e andiamo subito al zucco della questione vero che voi avete delle basi sulla luna sì è fantastico ma avete delle basi sulla luna allora avete delle stazioni automatiche per intercettare le comunicazioni terrestri facendole rimbarzare con protocolli quantistici sulla colonia di gonor se noi terrestri costruissimo delle stazioni spaziali in orbita lunare sarebbe una cosa saggia ma e perché non dovremmo il vento solare dannicerebbe i sistemi terrestri della stazione spaziale perché la luna non ha un campo magnetico allora se non è saggio costruire delle stazioni spaziali terrestri in orbita lunare è più opportuno fare delle basi sulla luna le dovremmo fare sotterranee in questo modo quindi potremo ripararci dal vento solare dalla caluta delle meteoriti dal vento siderale e da quant'altro che cosa pensi delle basi terrestri che potrebbero essere costruite su marte tutte le basi terrestri che saranno costruite su marte se non saranno sotterranei saranno destinati alla caluta wow è proprio un consiglio spaziale no e Zegel si ci puoi parlare un po' di come è la base di prossimità su Capitan B? eccoci eccoci va bene ok penso che per questo episodio la puntata ormai volge al termine salutiamo il nostro amico Zegel che ci manda un saluto dalla base di Gonor sul pianeta Gonor alias Marte ciao